Qualche recriminazione si prosegue invece con il fiumicino che guadagna spazio pallone che arriva in zona d'attacco pallone che si è insaccato ha colpito il paletto interno della porta il 3 a 2 il vantaggio dell'atletico fiumicino il gol l'ho trovato il neo entrato Ismael Solinas è entrato da poco diversi cambi in occasione del time out chiamato poco fa eccolo qui Solinas ancora e di nuovo ci deve mettere i guantoni rossetti su di lui gli porta via il pallone Maramao Maramao serve così così il compagno ne arriva però un altro ancora Maramao Maramao è entrato in area riesce di nuovo a toccare il pallone si stampa sul palo siamo sempre lì alla fine arriva il 5 a 2 dell'atletico fiumicino l'azione insistita infinita nei ragazzi maglia strisce il gol del 5 a 2 troppo frettolosamente frettolosa come tutta la manovra delle maglie nere che regalano troppo spesso il pallone agli avversari eccolo qui infatti Solinas Solinas 6 a 2 ancora la tripletta del numero 16 Ismael Solinas il risultato finora che ha dell'incredibile 6 a 2 atletico fiumicino per Biscomi che prova a andare tutto da solo si tratta di Mosciatti scusate servito Solinas c'è Maramao Maramao eccolo qui numero 9 che la piazza e segna l'ennesimo gol della gara il 7 a 2 sempre Maramao grazie No, 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 no.